In questo momento sto pedalando per 10.000 km fino al Isha Yoga Center. Sono partito da Bruxelles. Finora ho attraversato la Turchia, l'Italia, la Croazia, il Pakistan, l'Iran e l'India. In Svizzera mi sono reso conto che avevo un problema con una ruota. Non sapevo se sarei stato in grado di continuare e più andavo avanti con il mio viaggio più il problema peggiorava. Lungo il mio viaggio ho incontrato gente con un grande cuore, famiglie che mi hanno accolto e ospitato. Mi hanno offerto cibo come se facessi parte della loro famiglia. Ciò che Sadhguru ha rappresentato per me è stato una forza indescrivibile, una grazia che nei momenti difficili mi ha accompagnato per tutto il viaggio. Grazie a tutti.